Ragazzi, è l'ultimo video di questo 2023, ultimo contributo dell'anno e poi da domani si riparte con un nuovo anno. Ci pensavo questa mattina, io ho aperto il canale nell'anno dello scudetto del Milan. Ho aperto il canale proprio a inizio stagione, a inizio campionato, praticamente tra agosto e settembre e da lì è stata una lunghissima cavalcata fino allo scudetto del Milan nel 22 maggio del 2022. Un anno bellissimo, strepitoso, dove ci siamo conosciuti proprio all'apice della gioia del tifoso del Milan. Poi l'anno successivo è stato un anno deludente, il 2022-23, quindi praticamente tutto il 23, dove effettivamente il Milan ci ha regalato poche soddisfazioni, devo essere onesto. Se escludiamo il cammino in Champions, dove il Milan è arrivato fino alla semifinale in campionato, è stato un andamento non proprio da squadra campione d'Italia. Parlo ovviamente dello scorso campionato che si è chiuso a maggio con lo scudetto del Napoli e anche questa coda del 2023 da settembre a dicembre. Se andiamo a prendere tutto l'anno solare del 23, da gennaio a dicembre, in questi 12 mesi, il Milan non ci ha regalato delle belle soddisfazioni. Sono poche le soddisfazioni, soprattutto in campionato. In Champions qualcosa in più, per esempio la bella partita contro il Paris Saint-Germain, però anche lì in Champions il Milan ormai è fuori. Quindi anche per la situazione europea, ecco, ci sono tanti rimpianti, perché ora il Milan gioca in Europa League. Però comunque, nonostante la parte calcistica a livello umano, davvero voglio ringraziarvi per tutto e voglio augurarvi un 2024 ricco di serenità. La cosa importante, come sempre, è la salute. Spero che stiate bene voi e le vostre famiglie. Poi dopo viene il resto, lo sapete bene. Ma tornando invece alle cose di casa Milan, oggi c'è stato l'allenamento, perché domani è già vigilia, si gioca contro il Cagliari il 2 di gennaio. Una partita contro il Cagliari che vedrà l'assenza di Ben Asser, ed è un grande peccato, perché è un giocatore che serve tantissimo a questa squadra. Un'assenza che ha portato anche a tante polemiche, molti tifosi dicono, ma come, il Milan ti ha aspettato per sette mesi, per otto mesi e poi arriva alla convocazione e lasci il Milan praticamente per oltre un mese. Però c'è anche da capire che un giocatore, quando chiama la nazionale, soprattutto se si è molto legati alla propria nazionale, è difficile dire di no. La situazione è sempre molto soggettiva. Al suo posto, io personalmente magari avrei rifiutato la convocazione, ma solamente perché il club che ti ha aspettato e ti ha anche pagato merita la tua presenza e ha bisogno di te, del tuo aiuto a centrocampo. Però sono io, non sono Ismael Ben Asser. Ognuno fa le proprie scelte e ognuno, tra l'altro, fa le proprie scelte nella sua vita, nella sua vita professionale. E Ben Asser, ovviamente, ha scelto di andare a giocare la Coppa d'Africa con l'Algeria ed è un vero peccato. In questo video, però, vogliamo parlare anche di un grande giocatore, secondo me sottovalutato, fin da quando è arrivato in Italia. E parlo di Christian Pulisic, perché in tanti dicevano, no, il Mian ha fatto l'acquisto solamente perché è un'operazione di marketing. Alla faccia del marketing, ragazzi, sei gol e quattro assist in sedici partiti di campionato. Non diciotto, sedici, perché due Pulisic le ha saltate contro Udinese e Lecce. Tra l'altro sconfitta e pareggio del Mian con la sua assenza. Giusto un dettaglio. Sei gol e quattro assist. Praticamente ha partecipato a dieci realizzazioni. Giocatore, credo, sottovalutato anche dalla critica. Se Pulisic magari fosse in un'altra squadra lo avrebbero già elogiato all'infinito. Giocatore ancora molto giovane che può crescere tanto e che può migliorare il suo score. Perché con la maglia del Chelsea, nella stagione 19-20, se non sbaglio, ha realizzato tredici reti tra gol e assist. In questo momento è a dieci reti tra gol e assist. Sei più quattro. Quindi ci stiamo avvicinando alla sua annata migliore. E parliamo di un esterno. Non parliamo di una punta. Quindi diciamo che sei gol e quattro assist danno a Christian Pulisic la palma del miglior acquisto dell'estate del Mian nel 2023. Almeno fino ad oggi. Poi se nel nuovo anno del 2024 ci sarà un esploit clamoroso di Jovic oppure di Loftucic o di Reinders, ovviamente siamo tutti più contenti e felici. Però credo che ad oggi il miglior acquisto estivo del Mian è stato Christian Pulisic con questi suoi gol e questi suoi assist. È un momento non semplice neanche per Raffa Leao. Sto leggendo insieme a voi tanti commenti su questi fischi che ha dovuto subire durante la partita contro il Sassuolo, soprattutto al momento della sostituzione. Non è un momento facile per lui, non è un periodo facile per lui perché non segna da tre mesi, oltre tre mesi. E per un attaccante del suo calibro e soprattutto per un attaccante che guadagna tanto è ovvio che i tifosi si aspettano di più. Da questo punto di vista non possiamo dare torto ai tifosi. Però è anche Leao un patrimonio del Mian. E quindi secondo me c'è anche l'obbligo, o meglio è un suggerimento, non è un obbligo, perché non c'è nessun obbligo, è un suggerimento. Il suggerimento è aiutare un giocatore che in questo momento sta attraversando una fase negativa. Supportarlo. Pure perché quando il Milan ha avuto bisogno di Leao nei mesi passati lui c'è sempre stato. Quindi a questo punto di vista direi di dare qualche possibilità in più a Rafa, di cercare di aiutarlo dal punto di vista anche psicologico della testa. Va aiutato anche in campo e questo è bene specificarlo, perché secondo me neanche il modo di giocare del Milan aiuta molto Rafa Leao. Molto spesso isolato, comunque palla a Leao e poi si vede. Ovviamente evidentemente se lo stesso Pioli riesce ad aiutare Rafa nell'avere meno uomini addosso, il Milan ne trae benefici e anche il giocatore stesso. Quindi il buon Rafa deve essere anche lui aiutato dal resto della squadra, ma soprattutto da come la squadra viene messa in campo. Ritorniamo sempre al discorso dell'allenatore, che dal punto di vista del gioco lascia desiderare questo Milan e deve migliorare se vuole perfezionare i numeri del 2023. Un 2023 deludente, possiamo dare un 5,5 ad essere buoni massimo 6, ma io sarei più per il 5,5 all'annata in campionato del Milan nel 2023. Nel 2024 ci aspettiamo innanzitutto la qualificazione in Champions, quindi un Milan che arriva senza troppi patemi, senza troppa preoccupazione nei primi quattro posti. Se non dovesse essere così, sarebbe l'ennesima delusione. Quindi molto dipende anche da come Stefano Pioli riesca ad uscire da questo periodo difficile sotto il piano del gioco e l'espressione del gioco della squadra e poi a fine stagione si chiudono i battenti, si tracciano i bilanci e si decide verso quale direzione andare. In questo momento mi sento di dire che il Milan comunque a fine stagione cambierà guida tecnica. è normale, dopo tanti anni è anche giusto magari provare nuove strade, provare anche nuovi stimoli e cambiare guida tecnica. Però da qui a giugno, a meno di cose clamorose, Stefano Pioli dovrebbe condurre in porto la nave e salvare sia la sua panchina per un eventuale esonero, ma soprattutto centrare l'obiettivo della Champions League, quello è fondamentale. Poi chi sa, in Europa magari il Milan ha anche le possibilità di poter vincere l'Europa League, secondo me ha anche la rosa per farlo, però non devono esserci infortuni. Se ci sono infortuni non si va avanti. Se il Milan non ha infortuni e può utilizzare tutta la rosa, può anche arrivare in fondo all'Europa League. Noi ci vediamo nella giornata di domani, ancora auguri un buon anno a tutti voi. Ciao!